Ben ritrovati con un nuovo approfondimento sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online dedicato all'assestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale lo scorso 27 luglio. Crescono le risorse a disposizione per il Piano Lombardia con l'assestamento di bilancio approvato lo scorso 27 luglio in Consiglio regionale, passano da 3,8 a 4,3 miliardi di euro. Fondi a sostegno del tessuto socio-economico regionale, un impulso senza precedenti alle opere pubbliche con indubbia ricadute occupazionali. Risorse che hanno stimolato un investimento di ulteriori 2,3 miliardi da parte degli enti locali generando un valore economico tra lo 0,6 e lo 0,7% del PIL della Lombardia con un effetto potenziale sull'aumento dell'occupazione di circa 35 mila lavoratori in Lombardia e 14 mila fuori regione. Una manovra a tutto campo con diversi interventi strategici, tra questi ad esempio la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, il finanziamento di tutti i 530 progetti per la rigenerazione urbana, il finanziamento di tutti i 95 borghi storici, i fondi per gli impianti sportivi privati, le risorse a favore degli enti locali per l'installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree protette, ben 191 i progetti che beneficeranno del bando Giovani Smart, 30 quelli legati al patrimonio culturale. Programmazione e razionalizzazione le due parole chiave, una programmazione che ha fatto principalmente leva sulle disponibilità individuate a livello europeo e su iniziative mirate emesse in campo dalla Giunta regionale, come l'attuazione del federalismo fiscale con gli introiti provenienti dalle concessioni idroelettriche, 3,5 sono i miliardi in arrivo dalla programmazione comunitaria. L'attenzione sociale si conferma anche attraverso il potenziamento del buono scuola, delle borse di studio e l'incremento dei fondi per il diritto allo studio. Passano da 12,4 a 19,4 milioni le risorse per le borse di studio, per gli studenti universitari bisognosi o meritevoli. I fondi per il diritto allo studio sono stati incrementati complessivamente di 20,5 milioni di euro. Notevole è l'impegno per la formazione professionale dei nostri 53 mila ragazzi, con 270 milioni, di cui 90 con risorse regionali. In sintesi, sono stati inoltre previsti 56 milioni di euro destinati all'assistenza educativa degli 8.780 studenti disabili, 3,5 milioni per il trasporto casa-scuola-casa dei 1.718 non autosufficienti, ulteriori stanziamenti per la dote scuola e 4 milioni di euro di risorse regionali in più, destinate per le scuole dell'infanzia paritarie. Grazie per averci seguito. Continuate a farlo sul sito internet Lombardia Notizie.online e su tutti i nostri canali social.